Per me è un onore e un privilegio oggi entrare nel TG perché mi sento come a casa a VCO Azzurra TV perché a casa a VCO Azzurra TV è soprattutto casa di Don Renato che è qui vicino a me che accolgo perché venerdì per chi ci seguirà andrà in onda non una puntata qualunque numericamente di non di solo pane ma ben 800 puntate quindi Don Renato intanto un pasticcino per te per festeggiare queste 800 puntate se sarai bravo ma credo di sì ne mangerai 800 è un modo Don Renato che io personalmente tutti gli amici della televisione le persone che ci seguono da casa hanno per dirti grazie perché in queste 800 puntate tu sei la continuità ci sei sempre stato l'hai ideata l'hai sviluppata l'hai tenuta a cuore questa creatura e come un bimbo ti è cresciuto fra le mani oggi è più che un giovanotto no non di solo pane per molti un'occasione di riflessione per molti un'occasione di così incontro con la propria coscienza per tutti noi mi auguro e spero è un incontro con il Vangelo e la sua verità che rende noi uomini e donne liberi e liberanti e quindi Don Renato a nome di tutti un grande grazie e ti facciamo dire due parole va perché sennò poi dopo non va bene perché in un festeggiamento si fanno gli auguri ti dicono tutte le cose belle ma Don Renato tu ci hai portato il mondo in 800 puntate di non di solo pane incontri volti persone cosa dici? dico grazie alle persone incontrate in giro per il mondo a chi ci ha accompagnato Don Giorgio a te agli operatori alle ragazze e ai ragazzi della televisione a tutti a chi ci segue da casa a volte con pazienza sopportando le tue esuberanze giovanili e le mie lentezze magari dovute all'età grazie a tutti e continuiamo a vedere non di solo pane grazie a tutti grazie a tutti